... Quella lì gialla ti piace, è chiara? Quella lì sopra, quella sopra l'altra parte. Quella lì ce la facciamo calmare, quella lì le riusciamo a... A portare il centro? A portarlo, a mantenerlo, a trasportarlo, a metterlo in acqua, è indestibile. Quindi a noi, a andare a fare il centro, ... 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